Elettrificazione, progressivo, passaggio da proprietà a utilizzo, cambiamenti, l'ibrido, gli aspetti ambientali legati alla mobilità. Siamo a Roma per l'EPRI e abbiamo colto l'occasione di incontrare i manager di DS per capire che cosa sta facendo l'industria dell'auto su questi temi. Rimanete con noi. La Formula E è uno straordinario strumento di ricerca e di sviluppo su quella che poi è la tecnologia dell'oggi e che sarà sicuramente la tecnologia del domani, cioè l'elettrificazione dei veicoli. Noi ci siamo fin dall'inizio, dalla primissima edizione ed è stato uno strumento utilissimo per ricercare e sviluppare la tecnologia elettrica, arrivare a portare all'avanguardia questa tecnologia e portarla sui nostri prodotti. Oggi noi abbiamo una gamma completamente elettrificata, 100% elettrico o ibrido plug-in e proprio dall'esperienza fatta in Formula E abbiamo portato dei prodotti che sono già proiettati verso il futuro. Ma non ci fermiamo qua, continuiamo a progredire verso il futuro, verso un'elettrificazione ancora più diffusa perché vogliamo veramente essere partner e sostenitori di questo cambiamento energetico. Lo abbiamo fatto fin dall'inizio, adesso anche noi vogliamo fare un passo in più. Dal 2024 tutte le nostre nuove macchine saranno 100% elettriche e questo è un impegno importante. All'interno del gruppo Stellantis DS diventa veramente l'avanguardia verso l'elettrificazione. L'elettrificazione è come la vogliamo fare noi, premium, differente rispetto anche agli altri costruttori, ma veramente per dare un importante contributo a questa nuova rivoluzione nel mondo dell'auto.